dobbiamo andare a prender vane dai che oggi è venerdì abbiamo un sacco di cose da fare spegni dai anni dai sta uscendo vanessa fai la brava dai ma la macchina non c'è lì però stai attenta andiamo cosa credi che non sono capace quando avevo la tua età saltavo tutti i gradini della scala del cortile no quando avevo la tua età no non è vero quando avevo l'età di vanessa esprimi un desiderio mentre butti il sasso dentro sentito dai sali macchina di queste c'è un pacchietto che non mi vedo bene c'è che si vede la bocca e il naso c'è ma tu sei tutta matta c'è tutta matta c'è che lavori sempre c'è io entro in macchina c'è e ti lascio qui fuori c'è e guido io la macchina c'è per quanto ha fatto c'è poi poi c'è e meno male che lavoro c'è no non non devi strapparla via la cintura ti devi solo legare posso andare avanti sei sicura ti leggo io guardate nastasia che si sta impegnando tantissimo tra un uvetto kinder non la vediamo più adatta è fatto brava hai visto che ce l'hai fatta bravissima adesso vogliamo dall'avane questo cappuccetto rosso mamma no sei cappuccetto blu mamma mi puoi aprire il finessino così vi faccio vedere che ce l'ho c'è guardate ragazzi che sole che c'è ma sono anche le macchine bellissimo c'è ciao ragazzi siamo andati a prendere Vanessa c'è guardate fuori il finessino e guardate quanto adesso ve la faccio vedere un attimo che parlo un po' io adesso siamo andati a prendere Vanessa poi dopo li teniamo a casa a check mettiamo a Vanessa più cittina a check l'ho fatto un cadere un po' il telefono a check ciao 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 mamma che guida ciao 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 sono uscita dalla scuola infatti ho il grembiulle e adesso incominciamo la mia no la mia? no la mia routine del venerdì no la mia video chiamata con il maestro e vabbè adesso incominciamo e adesso vado a catechismo e preparo tutto ci vediamo a casa ciao ciao amore ti ho comprato una merenda buonissima la tua preferita indovina qual è? eh quella con lo squishy? no più buona eh non so l'ho presa in panetteria no l'ho presa in un bar non in panetteria non so la piaccia alla nutella ok non è proprio nutella però è cioccolato va bene? mi piace il cioccolato ciao ragazzi ciao raga ma che bella signorina amore sei contenta fammi vedere che bello questo costume sei bellissima ed era anche tanto che non andavamo più in piscina sei felice? sì eh? dai però prima della piscina cosa abbiamo? catechismo e mancano pochissimi minuti devi fare ancora merenda dai vestiti che andiamo a catechismo ciao ciao faccio esatto di prima tre due uno via io lo faccio da qui forza ora pergo la cartelletta aspetta qui tre due una no ma sei matta guarda che fai male wow allora Vanessa abbiamo optato per mangiare strada facendo vero? per fare merenda eh? perché altrimenti avremmo fatto tardi e visto che il catechismo è attaccato a casa nostra la chiesa noi andiamo a piedi d'accordo? sì no dov'altro andiamo a catechismo senza macchina invece il piscino con la macchina diamo le tre unghie e l'ha fatta la nonna e l'ho scelto io colori Vanessa mattina è andata dalla nonna mentre io mi facevo torturare le macchine vanno velocissime eh sì bisogna fare molta attenzione dai andiamo vediamo bella anche le tue guardate che qui sono stato da qui e da lì sei in vena di salti oggi? guardate in me quanto sono brava anche il suono l'effetto sonoro piano attente che passano le macchine ok il nostro percorso cosa c'è? no c'è un pacolino cosa c'è? perché sei arrabbiata? lo sapete una cosa? mia mamma è vicino a una casa vi dico io quale casa una casa che è del nostro amico che si chiama Critta Cristian è una bellissima finestrina guardate è vero e sembra anche questa una finestra invece non lo è che è chiusa a chiave è il contatore della luce o del gas no forse del gas ok bimbe dobbiamo andare dai andiamo il pacchettino come chiusino per la città ma ne stanno arrivati e saranno lì che non si vedono siamo quasi arrivati dopo quella macchina grigia c'è la chiesa dai eccola allora Vanessa ci siamo arrivati si vede in lontananza la maestra Laura di Catechismo e la nostra vicina di casa Rebecca ci siete solo voi due oggi? che strano allora Vane come al solito mezz'oretta ed esci ok? andiamo in piscina va bene? ciao abbiamo lasciato Vane amore adesso andiamo a casa e tra 25 minuti la facciamo uscire da Catechismo per portarla dove? in piscina in piscina in piscina andiamo a casa a preparare il suo zainetto per la piscina lo mettiamo in macchina ok? si ciao 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 ma tu che sport vorresti fare invece? ti piacerebbe fare uno sport? quale? pattinaggio con Asia vorresti fare pattinaggio e karate con Raffaele cosa preferiresti fare? karate con Raffaele o pattinaggio con Asia? pattinaggio con Asia ok magari l'anno prossimo allora lo farai ok? si sono i sassolini piccolini io vorrei fare il salto qui e lì dai proviamo dai vediamo il salto più lungo ma che salto è? hai camminato dai uno due mamma mia ti mando alle olimpiadi se salti così wow andiamo amore che tra poco dobbiamo andare a prendere Vanessa guarda che posso fare così 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 con i piedi storti sei sciocca stiamo aspettando che esce Vanessa sono passati ben 25 minuti da quando lei è andata a catechismo diciamo che il nostro venerdì è molto indaffarato perché abbiamo pochissimi minuti di tempo per fare catechismo perché poi dobbiamo andare subito a nuoto sto arrivando ciao ragazzi sono tornata cioè sono uscita da catechismo e adesso finalmente andiamo a nuoto vero mamma? sì amore sì sì sei contenta? sì tanto non so dai speriamo di arrivare in orario dai cercherò di fare il possibile per arrivare in orario così entri con Giorgia ok ciao siamo arrivati tutto bene? sì vale amore ci vediamo dopo buona lezione vai amici abbiamo buttato le semplici la ferma mamma e adesso vediamo che arrivo a flori tre due ora via ma sei troppo veloce uffa non ve lo ricacciamo ma ciao come è andata la lezione tutto bene tutto bene amore come è andata bene mamma sai che adesso Giorgia che ho detto che tu avevi detto prima che praticamente con Giulia e Giorgia quando io non c'ero erano andate a ballare sì c'è una sala dove ci va a ballare qua? ah sì fanno i corsi probabilmente ti va andare però un giorno ti ha fatto entrare a ballare veramente wow allora tutto bene brave che siete già vestite allora siamo tornati e vanè dalla piscina e adesso andiamo fuori a mangiare dove c'è anche una sala per bambini per giocare dai andiamo che ora ha fame oggi tu hai fame? quanto fa 10 più 10? 20 oh che panino di cinese no che cinese basta andiamo a mangiare una pizza io voglio una pizza io ho una mung con le patatine ciao 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 eh? ti piace? che bello ops come è andato? vabbè aiuta con te non mettono in me buon appetito a papi buon appetito a papi e buon appetito alla mia manessina che ha tanta fame è stata una giornata molto impegnativa per me vero? scuola scuola catechismo e viscina mangi papà buon appetito buon appetito amore grazie fammi vedere che bella pizza con le olive buona e la mia salame piccante non riesce a prenderle non riesce a prenderle non riesce a prenderle che c'è amore? mamma è andata a casa sì adesso andiamo vanè 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 ti ho lasciato su quel pulmino e ti ritrovo su quel pulmino finalmente a casa bambine questo venerdì sta per terminare come va? ciao ragazzi il video è finito finalmente sono a casa dopo tutto questo tempo mi sono divertita un sacco e adesso leggerò dei fan che mi hanno scritto di salutarli Alessia Maria Rita Marta Dienni Emanuela Siria Francesca Sashin Daniela Ginevra B Agatha L Giada Letizia Emma S Anna Maria Z Coletta Romina Aisha Giulia Di Firenze Roberta e Denisa quindi ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un like a questo video aspettate aspettate se volete che vi salutiamo scrivetelo nei commenti e la prossima volta saluterò tutti gli altri che mi hanno scritto quindi se volete che noi vi salutiamo non scrivete mi salutate per favore ma scrivete il vostro nome non so mi salutate e il vostro nome quindi un grande bacio e se non avete capito iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao ciao Olivia Dove vai? ciao 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 amore ciao ciao no non si mangia cosa mangi? buonanotte da Olivia cucciola buonanotte